Orr 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 Cos'è questa roba? Non lo so Ok Ok Questo è un video assurdamente dal programma Io non so come metterlo Ok Questo video è completamente fuori dal programma Perché? Letteralmente Forse otto giorni fa Vado a controllare Letteralmente nove giorni fa è uscito il video più potente nel mio canale Ma senza un valido motivo È uscito due ombre e una palla di luce Questo video qui Ci credete? Io sì È incredibilmente assurdo il fatto che in nove giorni ha fatto novecento Ottocento views Cosa cazzo vuol dire? Ogni giorno media centoventi views Non ha senso perché non è né una thumbnail accattivante Che dici ok ci clicco è bellissima e voglio vedere questo video Oppure il titolo Il titolo due ombre e una palla di luce e basta Cioè E non ho capito Perché se l'avrei capito Sarei contento Tra virgolette Perché sono contentissimo Io non sono mai stato così contento Io ho fatto otto iscritti In Solo con quel video Questa cosa è molto triste Ma Questa cosa ha boostato il mio canale Perché anche gli altri video del canale stanno aumentando i views La media si è alzata da Da trenta a cinquanta Questa cosa è molto ficca Sono altrettanto confuso Perché se saprei Cosa Ha fatto esplodere quel video Allora L'avrei sfruttata a pieno È uscito Quello che vedrete La mia serie Quello che non vedete È una serie in cui prendo tante clip del mese Anno Quello che è Che non ho mai fatto Non ho mai messo in un video E le metto tutte insieme Le metto in un video E adesso è uscito Quello che vedrete Che è una roba diversa Perché ci sono sia clip Che non usciranno mai in un video Per la maggior parte Ci saranno clip Di video Che dovranno Devono ancora uscire Molti video Devono ancora uscire Come avete visto in tutte le clip Se avete visto Se non avete visto il video Non so Da qualche parte nelle schede Dura poco Però mi ci sono impegnato Perché ho provato un nuovo stile di editing In cui praticamente ogni clip È editato in maniera Memosa Eccetera Ci sono molti video che devo editare E ho avuto quel blocco Verso Vedo febbraio O marzo Comunque in quei mesi lì Non ho fatto niente Perché non ci avevo voglia Se non ho voglia di fare i video Non li faccio Perché infatti dopo Dopo quel periodo Sono usciti 47 video Assurdi Che mi piacciono tantissimo Tutti quanti Soprattutto Quello che non vedete Perché Proprio a caso Un giorno ho detto Bro Ma sai che Potrei ricominciare a fare i video È successo poche volte Che ho detto Ok questo video mi piace Come è uscito È successo con Con scp Con entrambi i video Sia quello sul mio canale Sia quello sul canale di daka A parte quello di scp C'è anche Come non giocare un horror Vedo per Halloween Di quest'anno Anche quello dell'anno scorso Ma quest'anno Aspetta un attimo Quello dell'anno scorso 2021 A parte un po' Piccoli punti Però Non è così grave Non è come in altri video In cui dico Ok ma che cagato ho fatto qui Che cagato ho fatto qua Quindi Quello è un video Che mi piace molto Soprattutto A livello di ritmo Del video Questi video sono proprio Per tranquillizzarmi Voglio fare Io faccio questi video Per organizzarmi un po' le idee Questa uno Oretta Mezz'oretta Quello che mi serve Per parlare La uso sempre Per schiarirmi le idee La mia Canon EOS 2000D Finalmente la potete vedere Proprio al 100% E questa È una fotocamera È una reflex Assurda Molto figa Mi piace tantissimo Per le foto Per i video No Per i video Servono principalmente due cose L'audio Della fotocamera Un minimo decente E un obiettivo Barra La fotocamera Abbia un autofocus Questa fotocamera Non ha l'autofocus E il microfono Fa veramente cagare Come avete sentito Nei video Anzi Terza cosa Che manca In questa fotocamera Io avrei detto Vabbè Me la piazzo sempre Lì Per le stream Che non faccio più Però Questo è un altro discorso O per i video Me la piazzo lì Col cavalletto Che mi guarda Diretto E basta Non devo più Pensarci Prendo un cavo Lo collego al pc Mi prendo questa fucking canon E la metto Lì come webcam E dico Vabbè Altissima qualità Visto che una webcam Non riuscirebbe mai Ad arrivare a questo livello Ma il cavo non funziona E non è il cavo Che non funziona Ma è lei Che non si connetta al pc E' un aereo Che sta passando Ukraine thoughts In my head La mia più grande paura E spendere 130 euro Per un camlink Che poi non funziona Su questa fotocamera Perché per le foto È assurda È bellissima Per le foto È Puoi settare qualsiasi cosa Perché è una fotocamera Non l'avrei mai detto Però Ha dei colori bellissimi A me piacciono tantissimo I colori della canon Per le foto Per i video un po' meno Ho preso una canon Perché volevo fare Le foto Ma anche i video Per i video Ci ho provato Fa cagare e basta Fino al momento In cui il mio telefono Questo è il mio vecchio telefono Ha deciso Non è vero Funziona ancora Funziona tranquillamente Tutto quanto È soltanto che Sono 4 anni Che ho un iPhone 6 Nel lontano Nel lontano 2018 Mi sono comprato questo telefono Ed era Assurdo Per il 2018 Io ero felicissimo 2019 Felicissimo 2020 Felicissimo 2021 Anche qualche giorno fa Mi è successo però Era al 70% Si spegne completamente Si riaccende a 10% Rimane a 10% Fino a quando Cioè C'è scritto 10% Ma in realtà sono 70% E quindi io non posso mai sapere Se la batteria È scarica o no Il fatto che non lo aggiornano più Perché hanno detto Ok l'iPhone 6 È un botto di tempo fa Non lo aggiorniamo più Non posso scaricare Metà delle app Amazon Lightroom Che mi serve per la scuola E non lo posso scaricare Un anno e 4 mesi più o meno Ho comprato il nuovo telefono Ed è quello che sto usando Per registrare il video Quindi adesso prenderò il mio E ve lo farò vedere Ma fa schifo Non so se si vede Dovrebbe vedersi L'iPhone 6 L'ho preso L'iPhone 6 Ho preso L'iPhone 13 Pro Non Max Perché non lo volevo Troppo grande È l'ultimo uscito Prima adesso Quindi lo vol Sembra un gay Perché le fotocamere Sono 500 volte meglio E ha la La modalità cinema Un'incredibile Immagine esplicativa Però Non so se si sta vedendo Se non si sta vedendo Questa cosa è molto triste Semplicemente Avete presente La modalità ritratto Cioè foto Con lo sfondo Blurrato Una roba simile Perché metti a fuoco Quello che vuoi tu Porco Per le foto Ho lei La Canon Assurda E anche il telefono Però ovviamente La Canon È È comunque meglio E per i video Non userò mai più La Canon Ma userò sempre E solo L'iPhone Che è spento il monitor Per i prossimi vlog In cui vado al supermercato Con i miei amichetti Userò Il telefono Mi sento un figo Ma non lo sono Siamo arrivati Verso la fine del video Quindi Ultime due cose Che voglio dire Vi spiego Velocessimamente I nomi Dei miei video Come funzionano Ci sono Più o meno 3-4 serie Che non sono dette Esplicitamente Ma Mi sono reso conto Che lo sono I video che si intitolano Quella volta che Ho fatto qualcosa Sono i video Cose singole Quindi è una serie In cui faccio Una cosa Ma succederà solo una volta Nella vita Massimo due Cioè Il collegio Non lo farò mai più Perché ho sofferto Fortnite E non so se ho fatto Altri episodi Però sì Questo è Quanto Quindi se Daka dice Perché adesso Tutti i video Si chiamano così Non si chiamano Tutti i video così Ma soltanto i video Che li farò Una volta nella vita Poi basta Poi ci sono i video Lunghi Che non Non devo spiegare Perché sono dei video In cui tutto il gioco È dentro il video Il prossimo sarà 12 minutes Però quello Un video Credo sarà più di due ore E dopo 12 minutes Little night E quello che non vedete Ovviamente sono questi Non ci sarà un altro Quello che vedrete Perché Non ha senso Cioè Ho tante registrazioni Volevo Metterle tutte in un video Perché ci stavano E basta La serie di coppia L'ho già spiegata Cioè Il video da soli Con un'altra persona E Il prossimo video Sarà Un video Della serie di coppia Comunque ci sono un botto Di video Che stanno Sto preparando Ah sì Mi sono dimenticato di sta cosa Cosa che non c'entra con i video È Il fatto che Stiamo lavorando Come dei cani Per finire La mod di Friday Night Funkin' Che Sta uscendo benissimo Mi sto piangendo Piango Perché sta Sta accadendo Veramente Non manca troppissimo Manca un po' Però non manca troppissimo Quindi non allarmatevi E basta E hospitality Di plastica A Ma È O La Grazie a tutti.